Ciao, mi chiamo Yulia Sobo. Mi potete vedere come protagonista dei film I figli della notte di Andrea De Sica, L'ultimo piano della scuola volontè e Classic Horror Story di Netflix. Come l'oro viene raffinato dal fuoco, così il nostro carattere viene forgiato dalle difficoltà. Io amo i personaggi che come me li superano diventando più forti. Ecco perché mi piacerebbe interpretare una spia coraggiosa, una burn girl elegante e forte ed è una rivoluzionaria francese, Giovanna d'Arco, che ha dato la sua vita per quello in cui credeva. Sarei felice di ricevere le vostre proposte. Grazie per l'attenzione.